Buonasera, ben arrivati. Questa sera dedichiamo la serata al libro di Giabascego, un libro importante, La linea del colore. La scrittrice romana di origine somola parla di un viaggio, l'identità attraverso il viaggio, l'arte, la libertà contro il razzismo. Questo libro attraversa a tanti livelli l'identità e questo ci fa molto piacere. Dentro questo ciclo, ai denti di si leggere il contemporaneo, avevamo davvero piacere che ci fosse, che ci fosse lei. Grazie di essere qui con noi. A parlare con l'autrice c'è Eike Schmidt, direttore degli Uffizi. La Leila Eusi, storica, dei paesi islamici ed ha seguito molto da vicino anche gli studi di Giaba. E Angelica Pesarini, sociologa, tutte e due dell'Università di Firenze, della New York University e dell'Università di Firenze, Leila Eusi. Grazie di essere qui, ancora sta arrivando gente, si accomodatevi. Grazie e un ascolto. Buonasera. Abbiamo praticamente lanciato una moneta per vedere chi inizia. è cascata da me, quindi si inizia un po' dalle periferie per poi entrare più nel centro, perché non sono esperto di letteratura, ma sono direttore di un museo e quindi sono chiamato per parlare dell'arte. Infatti, una delle due protagoniste del libro è effettivamente una pittrice ottocentesca che prende però ispirazione da una scultrice molto famosa già all'epoca, ovvero Edmonia Lewis, che era una delle grandi scultrici e scultori americani che esistevano nel tutto l'Ottocento. Quindi americani, però anche bisogna dire italiani, perché era attiva in Italia, soprattutto a Roma, così come, tra l'altro, che spesso viene oggi dimenticato, la scultura americana dell'Ottocento, in realtà è un sottocapitolo della scultura italiana dell'Ottocento, ovvero i scultori americani, quasi tutti della East Coast, del Nord e Est dell'America, avevano tutti i loro studi o a Firenze o a Carrara o a Roma, soprattutto a Firenze, effettivamente, e poi solo una volta all'anno, un anno sì, un anno no, tornavano in America per poi vendere le loro opere, per presenziare alle inaugurazioni, soprattutto a Boston, Boston, la città che all'epoca aveva già un museo, un grande museo, il MFA, molto più antico rispetto al Metropolitan Museum e altri musei che oggi conosciamo nei Stati Uniti e quindi Admonia Lewis già celebrata all'epoca e questo è doppiamente notevole perché effettivamente era artista donna e era artista di origine africana, quindi African American e nonostante questo, bisogna dire nel 800, o nonostante questo, effettivamente era celebra e già all'epoca le sue opere comandarono dei prezzi enormi e negli ultimi anni questo livello è ancora salito ancora di più, anche perché queste opere sono diventate molto rare sul mercato, la maggior parte si trovano nei musei oggigiorno oppure anche in istituzioni pubbliche che nell'800 li acquistarono direttamente dall'artista, effettivamente. Il libro è scritto come un racconto di un attreccio contemporaneo, di una narratrice contemporanea e poi si capisce perché è anche la storia dell'800, quindi prende l'avvio dalla stessa struttura narrativa come l'Artemisia di Annabanti, però c'è comunque anche una differenza, mentre l'Artemisia di Annabanti cercava di essere una ricostruzione storica, qui Ijaga Scebo si vede che è una donna postmoderna, cioè quindi utilizza proprio l'800 per la libertà artistica, per raccontare temi proprio contemporanissimi nella veste dell'800, talvolta prendendo degli elementi precisi dall'800, talvolta mescolandoli con delle invenzioni, con delle libertà artistiche e proprio a proposito di Artemisia Gentileschi, credo che è un ottimo esempio perché nel libro la Fanu Brown, la pittrice dell'800, prende conoscenza dell'arte di Caravaggio e di Artemisia Gentileschi attraverso i libri che legge e che guarda nel nord-est dei Stati Uniti dell'America, cosa completamente impossibile perché nessuno conosceva all'epoca Caravaggio riscoperto solo da Roberto Longhi negli anni 10 del Novecento, ma ancora di meno si conosceva Artemisia Gentileschi, anche essa riscoperta da Roberto Longhi nel 1916 e di sicuro non illustrati in libri di storia dell'arte dell'Ottocento, anzi l'entrata di Artemisia Gentileschi nei libri di storia dell'arte risale addirittura ai ultimi dieci anni, bisogna dirlo, di sicuro dopo la mostra a Casa Bonaroti nel 1992, la grande mostra monografica, tra l'altro artista che ora fra poche settimane avrà una grande mostra alla National Gallery di Londra, la National Gallery due anni fa ha acquistato un'opera di Artemisia che ha preso più come occasione per organizzare questa mostra con prestiti anche dagli uffizi del Palazzo Pitti, infatti noi ci possiamo pregiare di avere il più grande numero di capolavori di Artemisia Gentileschi nelle nostre collezioni, però noi ci possiamo anche pregiare di avere il più grande numero di opere di donne artiste prima dell'Ottocento, incluso l'Ottocento effettivamente in tutto il mondo, perché già nel Cinquecento i medici non avevano delle barriere ideologiche a collezionare opere d'arte da donne artiste, poi nel Seicento c'erano alcuni casi di donne artiste molto celebri in tutta l'Italia, anche all'epoca i miei predecessori acquistarono queste opere, poi bisogna dire nel Settecento in cui la Toscana era lo stato più moderno in tutto il mondo, prima della rivoluzione francese e anche dopo effettivamente, nonostante il fatto che era un gran ducato, quindi uno stato aristocratico, bisogna dire che se si legge la Costituzione della Toscana nel Settecento è sempre più moderna, sempre più aperta il rivoluzionario rispetto al 98-99% dei stati che esistono oggi, cioè c'era praticamente la censura esisteva solo sulla carta, cioè si poteva vivere come piaceva, la gente poteva seguire i propri orientamenti erotici come piaceva, non c'erano limiti, poi c'era soprattutto la Toscana che famosamente era il primo stato al mondo a abolire la pena di morte, naturalmente Pietro Leopoldo nel 1680 nel 30 novembre e poi nella Toscana però era anche lo stato che più degli altri investiva in cultura, in cultura e in infrastruttura cultura a partire dalle scuole ma poi le università, poi i musei, gli uffizi si raddoppiarono sotto Pietro Leopoldo, aggiungendo importanti collezioni comprando intere collezioni private ma comprando anche collezioni sul mercato internazionale a Parigi per esempio, proprio per renderli accessibili a tutti quindi dal marzo 1766 il giardino di Boboli era aperto tre giorni alla settimana a tutti quanti quindi non solo più alla corte, a gente con una lettera di raccomandazione e dal 25 giugno 1769 quindi da 201 anni quasi anche gli uffizi erano aperti a tutti quanti quindi non si guardava se ricchi poveri, se toscani o francesi eccetera, cioè quindi la maggior parte ovviamente dei visitatori erano comunque dei viaggiatori nobili al Grand Tour ma c'erano anche artisti, c'erano studiosi e appunto ogni 25 giugno c'erano tutti i fiorentini che entravano gratis al museo, una tradizione che poi durava per molti molti decenni. Gli uffizi hanno preso questa presenza di opere di artiste donne per lanciare una serie di mostre, ogni anno almeno due mostre da quattro anni oramai dedichiamo alle donne artiste da Elisabetta Sirani fino a Kiki Smith da Maria Lai, la grande artista sarda fino alla mostra che ora stiamo per allestire fra due settimane apre la mostra dedicata a Giovanna Garzoni ma noi siamo stati anche il primo museo tra i grandi musei europei a dedicare una mostra due anni fa a un artista etiope a Tesfai Urghessa che è venuto qui con la sua monografica a Palazzo Kitti quindi proprio nello stesso palazzo in cui risiedette il imperatore dell'Etiopia cioè in tempi non così tanto passati bisogna ricordarci abbiamo allestito questa mostra dedicata a questo fantastico artista che tra l'altro nella sua opera affronta proprio i temi di percezione, di stereotipazione di mediatizzazione e di sorveglianza cioè quindi molto molto interessante questa opera pubblicata anche tra l'altro da Bonpiani Giunti saluto anche l'amministratore delegato qui presente e il dottor Montanarini quindi che ha pubblicato anche questo libro che credo che sia meritato un applauso e passo la parola per un momento Buonasera a tutti io faccio brevi commenti a un po' tutte le suggestioni che mi arrivano dai relatori, relatrici e io sono molto contenta di vedervi e di presentare questo libro a Firenze con il direttore degli uffizi ma anche con due studiosi afro italiane perché appunto questo è un libro che parla sì di una donna afroamericana ma è un libro molto afro italiano e come l'ho definito nel making of del libro è un libro storico ma anche fantasy perché tecnicamente ho preso dalla storia quello che mi serviva dalla storia perché avevo un'idea molto precisa quella di raccontare il desiderio del viaggio perché oggi parliamo sempre del viaggio del Mediterraneo di rifugiati, di crisi però ci dimentichiamo quanto questa mobilità è anche un desiderio leggevo oggi sul giornale che probabilmente si faranno dei progetti per dire agli africani di non partire perché rischiano la vita e io ho pensato ma perché noi dobbiamo negare un privilegio che abbiamo noi abbiamo dei passaporti, possiamo andare ovunque e neghiamo questo privilegio agli altri, al sud globale questa cosa mi ha fatto impazzire per parecchio tempo perché a furia di vedere morti, bambini che si mettono nei vani delle aeree cioè non è una situazione normale e quindi io ho preso ispirazione da due donne afroamericane Edmonia Lewis, appena citata e Sarah Parker Raymond che era un'attivista le ho tradite come ho tradito la storia perché effettivamente molte cose sono molto vere in questo libro per esempio c'è tutto una diativa sui documenti e a un certo punto che lei non può andare in Italia è bloccata in Inghilterra e la legazione statunitense non gli dà la possibilità di avere i documenti quello è molto vero perché fino alla fine della guerra civile americana i neri americani non erano considerati statunitensi quindi ci sono delle cose molto precise e altre un po' diciamo di genealogia come definisco io per risponderti a Artemisia Gentileschi è stata scoperta dopo ma in realtà in questo libro ce la volevo fortemente perché non tanto per Labbanti quanto proprio per Artemisia e tanto per una genealogia femminile a un certo punto scusate questo piccolo spoiler all'inizio del capitolo 7 troverete una genealogia femminile italiana perché molto spesso quando si parla dell'Italia si dice Dante Petrarca, Boccaccio, Manzoni, Pascoli e sono pochissime le donne citate e appunto Sofonis Banguistola, Artemisia Gentileschi Alza Morante, Natalia Ginzburg abbiamo tantissime donne che non entrano nemmeno nei programmi scolastici quindi a un certo punto ho detto come ho tradito Edmonia e Sara ho tradito anche la storia però per raccontare una storia che è molto vicina al mio cuore è una storia di desiderio di viaggio come dico sempre i miei genitori in questo paese sono venuti in aereo e questa possibilità oggi è negata allora ci sono per spiegare la struttura del romanzo due storie che si intersecano quella appunto dell'ottocento quella dell'arte e quella dell'arte anche vista perché la Fanu Brown vede disegni anni Tacquini vede un particolare della fontana di Marino quanto della fontana dei quattro mori a Livorno e si chiede perché quei neri lì sono incatenati però c'è anche tutta la parte moderna dove c'è una protagonista Lela che è ispirata a lei a lei e a tante seconde generazioni che a noi seconde generazioni che non siamo bambini perché ogni volta ci dicono che siamo bambini giovanissimi in realtà stiamo anche invecchiando e vediamo un'Italia ancora immobile nei nostri confronti che è una curatrice d'arte lei è una docente ma nel libro Lela è curatrice d'arte e tecnicamente a un certo punto mentre vuole fare una mostra uno studio su questa pittrice dell'Ottocento sua cugina che lei non ha mai conosciuto ma con cui ha sempre comunicato via mail via messaggio fa il viaggio che sappiamo quello che insomma lo si dice in Gambia si chiama Backway insomma il viaggio dei migranti quindi c'è questa binti che dalla sua maglia tenta di venire in Europa e quindi si intersecano di base queste due storie Buonasera a tutte e a tutti grazie mille per questo invito Ijaba sono davvero felice di poter partecipare a questo evento e commentare un po' questo libro che offre davvero tantissimi spunti e dipende anche da quale prospettiva lo si legge quindi io essendo una sociologa mi occupo però anche di essenzialmente di colonialismo italiano e quindi ho lavorato tanto sull'Italia coloniale e post-coloniale e quindi questo libro mi ha offerto davvero tanti spunti mi ha fatto riflettere quando hai detto è un libro afro-italiano in cui mi rispecchio molto in questa cosa che hai detto ma è anche molto c'è davvero un mix tra storico e fantasy e quindi un pochino su questo mi volevo soffermare perché appunto leggendo tanto sul colonialismo però sai, libri di storia o saggi accademici leggere questo libro mi ha davvero fatto precipitare nella Roma del 1887 quando tu descrivi proprio minuziosamente la passeggiata che Lafano Brown fa in quel famoso giorno quando le sta per succedere qualcosa la parte che però davvero mi ha affascinato è proprio l'inizio in cui descrivi appunto quello che è successo a Dogali e è vero è così narrativo che uno non si rende conto però in realtà dietro a questa descrizione che tu hai fatto c'è davvero tanta ricerca e quindi ecco mi interessava innanzitutto sapere un po' perché è scritto così bene che uno non pensa alla ricerca che c'è dietro in realtà c'è tantissima ricerca storica secondo me dietro a questo libro quindi vorrei chiederti un po' di questo e c'è una frase in particolare che mi ha colpito quando la nostra protagonista senza fare spoiler come diciamo succede qualcosa un uomo italiano le viene in soccorso e dice una frase voi cretini non capite che i veri patrioti sono gli abissini questa cosa mi ha colpito molto quindi volevo sapere un po' ecco la ricerca storica dietro alla narrativa e ecco se ci puoi dire perché i veri patrioti sono gli abissini allora questo fa parte sempre della costruzione fantasy in realtà perché è una frase reale o branco di cretini non ho capito branco di cretini che i patrioti sono gli abissini è una frase reale che io però ho messo in un tutt'altro contesto è una frase di un anarchico che si chiamava Ulisse Barbieri ed era di Modena io a un certo punto l'ho trasformata in pugliese nel romanzo perché effettivamente c'erano anche molti italiani che erano contro il colonialismo non ci pensiamo mai quando parliamo di colonialismo facciamo brutti sporchi e cattivi da una parte poveri conquistati dall'altra ed era invece molto più sfumato il tutto perché appunto il colonialismo è stato feroce però le terre colonizzate parte della popolazione ha combattuto contro l'invasione e altri però l'hanno accettato quindi è sempre molto complicato parlare dei rapporti nelle colonie tra chi è stato colonizzato e chi colonizzava in qualche modo e questo rapporto complicato c'era pure in Italia perché appunto soprattutto nell'Ottocento c'erano anarchici socialisti parte del mondo cattolico che per motivi vari non solo etici erano contro questa avventura coloniale e per esempio qualcuno diceva costava troppo altri invece dicevano ma perché andiamo a conquistare qualcun altro quando noi abbiamo subito la stessa sorte e secondo me Dogali è un punto veramente importante della storia patria a parte che la piazza della stazione a Roma che una cosa mi ha sempre colpito si chiama piazza dei Cinquecento per quella battaglia lì persa dall'Italia in Eritrea ma è proprio il fatto che noi pensiamo sempre al colonialismo fascista quando invece è stato prima di tutto Centesco Mussolini non l'ha inventato lui il colonialismo quindi era in continuità e mi sembrava doveroso in qualche modo cominciare un libro che poi parla di femminile perché è una frescola femminile con una scena di guerra una scena proprio ferata di guerra perché poi era così c'erano soldati in un fortino altri soldati che dovevano andarli a difendere e questa colonia viene intercittata appunto dai patrioti etiopi e c'è tanto sangue una carneficina tanti morti e perché l'ho voluta raccontare perché su quella battaglia l'Italia ha costruito tutto una costruzione retorica e patriottica di propaganda quindi la sconfitta è stata trasformata nel sacrificio degli eroi sacrificio degli eroi che sarà quello che poi il fascismo vorrà vendicare il fascismo poi dirà vogliamo andare a conquistare l'Etiopia per vendicare Dogale e D'Adua c'è la canzone famosa D'Adua è liberata è tornata a noi e quindi in qualche modo ho voluto mettere questo cappello iniziale che veramente è molto dettagliato è successo tutto così è successo tutto così e persino i tumulti sono reali non me li sono inventati sembrano inventati ma non lo sono e l'unica cosa di invenzione è appunto la Fanu Brown perché non c'era una donna nera lì in mezzo però tecnicamente quello che ho pensato è se ci fosse stata cosa poteva succedere e quindi da lì ho costruito questa scena questo romanzo ha vari ambiti c'è l'ambito artistico c'è l'ambito storico appunto coloniale e c'è anche questo grande frame del Grand Tour perché io parlando di viaggio e di desiderio di viaggio ho preso il viaggio per eccellenza che era il viaggio degli aristocratici dei borghesi però l'ho rovesciato perché questo viaggio lo fa un corpo non aristocratico non borghese e afro quindi c'è un rovesciamento io poi ho letto molte biografie di Edmonia e di Sara chiaro loro hanno vissuto altre cose però alcune cose sono anche simili nella mia la Fanu Brown mi ha sempre colpito il rapporto anche di relazione che Edmonia e Louise aveva con le sue benefattrici non era un rapporto facile quindi ci sono alcuni elementi biografici delle due donne reali che ho in qualche modo usato per plasmare il mio personaggio di finzione però ecco l'inizio l'inizio a questo motivo per me non dimenticare che quelle terre da cui oggi vengono i migranti sono state terre che l'Europa ha invaso l'Europa ha maltrattato ed era questo per me era veramente importante era fondamentale tra parentesi c'è nel pubblico c'è Giulietta Stefani che ha scritto un libro fondamentale sul colonialismo italiano che si chiama Colonia per maschi e devo dire che proprio lei ma da tempo in memore che mi ha in qualche modo ispirato vari libri cioè mi ha fatto pensare quanto il maschile il mondo maschile il mondo femminile in qualche modo si intersecano nella storia nella storia coloniale quindi quella visione di questo sguardo sul gender in qualche modo mi viene molto da Giulietta dunque io come dire sono in difficoltà sono in difficoltà perché per alcuni motivi nel presentare questo questo bellissimo libro di Giavascego prima di tutto perché non capita tutti i giorni di essere come dire l'ispiratrice di uno dei personaggi principali di un di un bellissimo romanzo e secondo anche perché a mio avviso appunto il fatto di presentare comunque il libro di un'amica può rendere difficile anche essere come dire obiettiva tra virgolette e in terzo il fatto che appunto io mi occupo di altro non sono sicuramente un'esperta una detta ai lavori non sono ovviamente non mi occupo di letteratura mi occupo di storia perché io insegno storia quindi sono sempre occupata di storia e devo dire che però a parte queste difficoltà io ho apprezzato in maniera come dire abbastanza meravigliosa questa lettura una lettura che non è stata facile a mio avviso non è stata facile è stata complessa è stata complicata perché in un certo senso il mio atteggiamento anche e forse ognuno di noi poi ha la sua peculiarità ma il mio atteggiamento è stato quello di guardare all'inizio questo romanzo con un approccio tra virgolette scientifico perché così sono abituata ahimè poi invece in realtà nella lettura proseguendo la lettura di questo libro di questo volume mi sono proprio immersa e questa è la cosa anche positiva di questo volume che alla fine ci si immerge nelle due protagoniste la Fano da una parte lei la dall'altra questi incroci che appunto fanno rimandare dalla storicità tra virgolette all'attualità e questo l'ho apprezzato tantissimo e questo poi è il bello di un romanzo nel momento in cui entri dentro cioè lo vivi sei dentro sei protagonista sei una delle due protagoniste o sei entrambe le protagoniste ma sei addirittura senti le loro voci le riprendi le ritrovi quindi in questo devo dire c'è un'empatia incredibile quindi questa forza è stata a mio avviso mi ha dato anche un sollievo in una fase anche come dire ognuno di noi poi ha delle fasi della vita più difficili più facili e in questo libro come dire in un certo senso ha sollevato e mi ha sollevato dalla difficoltà a volte della vita come potrei spero faccia anche a voi nel momento in cui lo leggiate poi uno degli aspetti che ho apprezzato molto da storica ovviamente è stato quello della ricerca cioè è vero quello che diceva anche Angelica prima la ricerca minuziosa che c'è e che si sente si percepisce nella descrizione di questo romanzo a volte spesso nei romanzi cosiddetti anche storici ci sono spesso errori ci sono spesso come dire rivisitazioni in realtà nel lavoro di Giaba Scego io ho trovato in realtà a differenza da quanto lei ha detto prima non tanto un tradimento ma una rivisitazione in positivo tra virgolette nel senso che comunque si vede che c'è una ricerca e una scientificità anche nel approcciare un romanzo e credo che sia questo sia una questione di pregio mi spiego meglio nel senso che a volte soprattutto nella letteratura più contemporanea c'è un po' di superficialità su questo mentre vedo che c'è un come dire un ricorso alla storia attraverso una documentazione attraverso sulla lettura della storiografia e questo è fondamentale quindi non c'è ci può essere come dire più che un tradimento ci può essere sostanzialmente una sorta di a volte rivisitazione ma positiva non negativa quindi questo è un altro elemento di pregio del romanzo e poi una cosa che io ho amato molto di questo romanzo è il suo amore per l'Italia Igiabascego è una donna italiana sicuramente di origine somala ma è una donna italiana e l'amore per l'Italia lo si percepisce tantissimo lo si percepisce soprattutto per la sua città che è Roma Roma la città in cui è nata e cresciuta in cui si vede ci sono dei punti del romanzo in cui c'è quasi a volte c'è un legame talmente forte incredibile una sorta di simbiosi con questa città una città che è complicata che è complessa che è difficile ma che è bellissima che è straordinaria che fa vedere anche attraverso il romanzo proprio in maniera empatica quanto questa città nella sua complessità sia assolutamente la meraviglia e quindi in questo si percepisce molto questo aspetto appunto della del suo grande amore per questo paese per questo paese che è Roma in primis quindi diciamo la capitale dell'Italia ma di quanto sia anche l'Italia perché poi all'interno del e non voglio fare spoiler come è stato detto però appunto ci sono anche altre città diciamo così ci sono altre città in cui appunto che cos'è che poi avvicina alla fine avvicina l'arte e quindi anche la ricerca minuziosa nel descrivere le opere che fanno parte di questo paese un paese che magari mi sbaglio ho qui accanto al direttore degli uffizi e poi magari mi potrebbe dire qualcosa ma che insomma diciamo chiaramente che il nostro paese detiene possiamo dirlo il 60-70% del patrimonio quasi globale no? cioè nel senso che comunque noi abbiamo ogni eurocentrico ma fino a un certo punto perché comunque noi in questo paese anche il piccolo paesino magari c'ha un Piero della Francesca in una chiesa piuttosto che un altro e quindi l'arte è veramente fondamentale fondamentale anche nella descrizione di questa nostra realtà che è il nostro paese e poi un altro punto che appunto mi ha emozionato che ho apprezzato è quello che poi anche Ijaba prima ha detto il fatto che comunque c'è la dimensione del viaggio la dimensione del viaggio che il viaggio per noi tra virgolette no? italiane di origine possiamo definirci così? non lo so ci sono tante definizioni poi che ci possiamo dare ma viviamo abbiamo vissuto magari non l'abbiamo vissuto in prima persona ma l'hanno vissuto i nostri come dire i nostri genitori i nostri nonni i nostri antenati per noi il viaggio fa parte della nostra storia fa parte del nostro percorso nel nostro nome nel nostro cognome nella nostra pelle nel nostro corpo noi riveliamo sempre il nostro viaggio e il viaggio per noi è fondamentale e abbiamo voglia anche forse come ci definiamo afro italiane ci definiamo di seconda generazione possiamo dare tutte le definizioni che vogliamo ma alla fine noi in un certo senso vogliamo abbiamo questa ricchezza che vogliamo trasferire e probabilmente Ijaba anche attraverso questo libro e altri libri che lei ha scritto ma questo libro in particolare voleva trasferire cioè trasferire anche il fatto che appunto il viaggio è fondamentale perché il viaggio è conoscenza perché il viaggio è ricchezza perché il viaggio è importante perché il conoscere le culture e altre è fondamentale è fondamentale per la ricchezza anche della cultura come dire uso un termine coloniale autoctona adesso Angelica mi ucciderà nel senso che comunque è fondamentale proprio il fatto dell'incontro del conoscere l'altro per incontrarsi e non per scontrarsi e lo dico con cognizione di causa proprio in questo momento in questa fase che il nostro paese sta vivendo e che l'Europa e che il mondo sta vivendo del fatto che sempre di più sembra alimentarsi uno scontro in realtà noi dobbiamo lavorare proprio per questo per incontrarci e quindi il viaggio il viaggio è fondamentale che può essere difficile complicato complesso come magari forse in alcuni punti è stato messo in luce da parte di Java nel volume non faccio spoiler ma questa anche complessità questa difficoltà poi alla fine è ricchezza e quindi questo credo sia assolutamente importante quindi per finire volevo dire una piccola cosa ma questo è dovuto al fatto che io sono cresciuta con un padre che era un linguista che questo romanzo è bello anche dal punto di vista linguistico cioè c'è una ricchezza una certezza una come dire una cultura proprio anche della parola della frase ci sono dei termini che sono a differenza magari di una certa letteratura contemporanea finalmente rivediamo un romanzo che come dire è scritto bene che non è che sembrerebbe scontato ma non lo è perché oggi abbiamo bisogno anche di una scrittura che ritorni ad essere quello che era come quella che è sempre stata quella della letteratura italiana ricordo Vittorini piuttosto che Pavese piuttosto che altri ma abbiamo bisogno di ricominciare a scrivere bene perché questo è fondamentale e devo dire che in questo romanzo io ho trovato anche dal punto di vista stilistico una una ricchezza che mi ha stupito inizialmente lo ammetto mi ha stupito lo dico ai Jabba ai Jabba non sapeva nulla di quello che avrei detto oggi però mi ha mi ha stupito favorevolmente perché c'è bisogno di una letteratura finalmente che ricomincia a essere letteratura in questo paese grazie grazie a Dio penso di essere in buona compagnia la stagione italiana letteraria questa ma in generale è fatta da autori e autrici che scrivono bene io penso che è un momento forse per la società non tanto positivo perché abbiamo un po' di problemi però in letteratura devo dire che veramente sta ritornando la curiosità e la voglia appunto di scrivere e anche oltrepassando i limiti solo del marketing quindi grazie di questa attenzione del linguaggio che è molto bella e io però vorrevo aggiungere proprio realizzandomi una cosa che sta facendo anche il museo degli uffizi in questo libro c'è molta black Italy c'è l'Italia ci sono varie Italie c'è l'Italia coloniale che apre subito che guasta un po' l'Italia cioè il mio la mia idea era proprio c'è questa bellezza c'è questa bellezza che è quotidiana io dico sempre che noi siamo italiani tutti per i ussoli perché in qualche modo vediamo tutti i giorni qualcosa che ci lega al territorio e quello che ci rende italiani non il sangue più che altro e quindi questo territorio c'è nel romanzo anche perché è quello che porta la Fanu ad amare l'Italia quasi come un rifugio mentale cioè un'Italia idealizzata quella di la Fanu Brown come lo era idealizzata in moltissimi autori autrici dei romanzi dei resoconti del Grand Tour io ne ho letto parecchi ho letto parecchia roba e la cosa che mi ha colpito di più è stato Hawthorne The Bubble Faun il fauno di marmo che usavano quasi come una guida turistica di Roma è un romanzo secondo me per noi contemporanei un po' illegibile perché veramente lento e appunto c'è questo Donatello che è la personificazione dell'Italia che è bello ma dannato quindi ci avviciniamo ma non troppo e lì ci sono anche le donne artiste insomma e mi aveva molto colpito perché la cosa che ho capito è che questa Italia idealizzata però per molte persone era un rifugio soprattutto per le donne cioè e l'ho capito dai risoconti le donne erano più liberi in Italia le donne artiste soprattutto perché erano un po' libere da quelle lacciuoli sociali della loro condizione insomma avevano più libertà anche di avere orientamenti sessuali diversi Edmonia Lewis per esempio era lesbica barra bisessuale e si era convertita al cattolicesimo quindi sembrano cose che si scontrano e nel libro di Hawthorne appunto ci sono queste artiste molto molto libere tra parentesi Edmonia Lewis era amica di Harriet Hosmer che si vestiva anche con vestiti maschili quindi era quasi la terra del possibile quindi c'era questa Italia idealizzata ma anche l'Italia dove potevi essere quello che non era in madre patria in qualche modo quindi questa cosa la volevo mettere e mi sono dovuta spogliare del mio essere italiana perché cioè dovevo guardare per la prima volta il paese da come lo vedono gli altri quelli che non sono di questo paese che non sono nati qua e quindi come lo vedono un po' no? bello brutto strano quindi mi sono messa in questa posizione poi è chiaro c'è l'Italia quella mia quella di Angelica quella di Lela che è un'Italia che sì è bella ma anche scusate la parola un po' stronza perché in qualche modo sa che siamo roba sua ma non lo vuole sapere fino in fondo no? e anche in questa negazione completa questa barriera che ha messo nel mar Mediterraneo è una una sorta di rifiuto anche dei corpi che che ha dentro il suo paese no? e quindi ci sono ci sono sicuramente queste varie talie sicuramente c'è l'amore ma c'è anche questo amore che è un amore spesso non ricambiato no? e quindi e quindi è una sorta di relazione molto cioè sì amore sì sì è assolutamente amore ma un amore complesso diciamo come si dice su Facebook una relazione complicata no? e allora e questa cosa la volevo assolutamente mettere cioè quindi troverete tante tante idee d'Italia qui dentro e tantissimi tantissimi quadri cioè e su quello sono cioè ho cercato di mettere questa Black Italy e le uffizie adesso hanno messo mi pare i quadri appunto dove ci sono presenze di afrodiscendenti li potete trovare online io più o meno ho fatto come gli uffizi cioè tendenzialmente ho messo dei quadri che mi avevano colpito io non so poi se una donna dell'ottocento li ha veramente visti questi quadri se magari era arrivata a Marino o arrivata a Iesi chiaramente lì è completamente un'invenzione perché almeno questo nel romanzo è come l'Italia per i gran turisti era appunto una terra della possibilità però ecco ho voluto metterci Lorenzo Lotto Carpaccio Veronese perché comunque a me personalmente proprio queste presenze nere nei quadri sono presenti che raccontano sicuramente una storia una storia che non so bene che intuisco quando andiamo a vedere i quattro mori di Marino due donne incatenate insieme a due uomini qualcosa ci dice della violenza che hanno subito quei corpi tanto che mi hanno ricordato le donne dei lager libici che adesso non ieri non 500 anni fa stanno nei lager libici oggi in questo momento in questo istante e lo stesso Livorno lo stesso la servetta dell'otto in questo quadro che si trova alla pinacoteca di Iesi insomma in qualche modo ci raccontano una storia forse di schiavitù mediterranea forse comunque anche qualcosa di mi è piaciuto molto postmoderno qualcosa di assolutamente postmoderno cioè noi possiamo usare questo passato per capire delle cose di oggi e io ho cercato di fare questo in questo libro cioè usare il passato per illuminare il presente quindi sì secondo me è in questo senso un libro postmoderno e io volevo un po' capire di più con il direttore appunto degli uffizi come mai avete deciso questa è la domanda che faccio io di fare questa galleria su appunto sulle presenze nere nei quadri degli uffizi ecco perché è un'enorme ricchezza che noi abbiamo e vorrei anche salutare qui due due membri del nostro impiatimento di strategie digitali che sono qui anche presenti che hanno lavorato insieme a mettere online questa ipervisione che abbiamo lanciato ora poco fa in occasione del Black History Month l'anno scorso appunto abbiamo fatto dei seminari dei corsi con l'artista che è venuto appositamente a Firenze e con Tesfai Orgessa mentre quest'anno l'abbiamo lanciato questo però a proposito e questo è importante perché il museo è per tutti c'è questa idea di Pietro Reopoldo cioè noi ora l'abbiamo ripreso e tutti sono tutti quindi questo è proprio importante noi abbiamo le testimonianze fantastiche uniche nei nostri quadri però a proposito del Black Italy bisogna anche considerare non soltanto le rappresentazioni in Italia è un altro esempio tra l'altro di recente anche questo mi riporta al mio museo precedente il Minneapolis Institute of Arts nel Midwest americano che il collega è lì il professore ordinario di storia di latte ha scoperto effettivamente tutta la storia del giovane africano del Takka sulla Livorno cioè praticamente che a nome infatti c'è il Morgiano e lui esisteva grazie a documenti nella biblioteca di Minneapolis documenti originali che furono acquistati oltre cento anni fa dalla biblioteca che erano tutto un elenco dei schiavi che furono schiavizzati infatti nell'ambito delle guerre sul Mediterraneo erano infatti prigionieri di guerra praticamente e così si poteva ricostruire una vita la vita del Morgiano appunto però volevo menzionare un altro esempio anche questo finalmente mi riporta a Minneapolis perché questo è il fatto che durante gli ultimi secoli uno dei santi di origine africane più famosi in tutto il mondo non era solo San Maurizio che ovviamente ha una storia lunghissima di due millennia ma era San Benedetto da Palermo e finalmente non era santo all'epoca però venne venerato come fosse santo infatti era un terziario francescano un schiavo liberato che faceva il cuoco a Palermo e quando ero curatore a Minneapolis ebbe l'occasione di acquistare sul mercato una statua di José Montesteoca del circa 1643 quindi nel momento in cui fu beatificato però c'erano già delle tentative di santificarlo molto prima e straordinaria infatti ora è diventato la statua più riprodotta del museo di Minneapolis una decina di anni fa è stato acquistato però è una statua che ha una lunga storia effettivamente ed è stato anche sul catalogo sul titolo della grande mostra fatta a Baltimore sulla raffigurazione dei africani nell'arte europea è una mostra epocale a cura di John Yates Spicer e proprio lì c'è questa statua intitola questo cioè il San Benedetto di Palermo effettivamente c'è un racconto di un monaco francescano siciliano che per la missione va in Sud America pochi anni dopo la morte e va a Lima nel Perù e vede una processione e non crede ai suoi occhi perché proprio in Lima in Perù vede una statua di San Benedetto Palermo che lui pensava fosse un santo del tutto locale infatti conobbe delle persone che erano amici suoi ancora quindi una generazione più dati era già il primo santo globale infatti bisogna dire e già anche oggi cioè in Brasile spesso nelle cucine dei ristoranti si trovano immagini di San Benedetto di Palermo quindi la Sicilia in tutto il mondo è famosa soprattutto grazie a un siciliano di origini africane infatti quindi questo fa parte quindi di una long durée della della storia del Black Italy effettivamente lunga dal 500 in poi quindi quasi cioè oramai 450 anni effettivamente Facciamo chiudere Angelica No un'ultima domanda quando è così nei nostri scambi di conversazioni chiesi ai Giapa in segreto questo titolo mi accennò qualcosa e poi quando l'ho visto pubblicato un po' mi sono brillati gli occhi perché la linea del colore come diceva Leila magari guardiamo leggiamo i romanzi con una certa scientificità ognuna dalla propria prospettiva e quindi essendo appunto una sociologa la linea del colore per me è uno dei concetti più importanti coniati appunto da uno dei padri della sociologia che era Du Bois e quindi mi affascinava perché leggendo il libro c'è una linea del colore che è quella che traccia la fanù sulla questa tela la prima volta però è tutto tutto il libro in realtà rispecchia un po' la linea del colore e quindi ti volevo chiedere appunto tu come hai interpretato questo titolo questa linea del colore simbolica ma come parlavamo di attualità oggi Du Bois diceva uno dei problemi maggiori del ventesimo secolo sarà quello relativo alla linea del colore e in effetti aveva ragione quindi mi interessava proprio sapere la tua linea del colore come la interpreti allora la linea del colore ha un sottotitolo il grand tour di Lafano Brown perché è un titolo in qualche modo collaudato no? è appunto Du Bois ma anche Alessandro Portelli c'è tantissime tantissime saggi no? di letteratura o barra di sociologia e invece la linea del colore in questo libro è come Adwa in qualche modo io uso dei titoli in qualche modo che vengono da una genealogia quando ho pubblicato Adwa poi sono andata in vari mercatini a comprarmi le altre Adwe perché in Italia ci sono stati hanno pubblicato Adwa dopo la battaglia di Adwa hanno cominciato a pubblicare romanzi con questo titolo ognuno parlando di una cosa diversa no? che ne so dei contadini del Veneto quanto sì è una signora mi sembra proprio pubblicata da Bonpiani che ha anche questo titolo però ha tutta una storia di una famiglia ebraica quindi è un grosso contenitore la linea del colore è la stessa cosa è un contenitore che ci parla di separazione di mondi separati di frontiere muri discriminazione e razzismo ma per la protagonista appunto come in questo libro troverete anche delle parole molto pesanti tipo la parola con la n troveretele tante volte no? messa proprio apposta perché in qualche modo non volevo lì ecco la mia vocazione storica lì appassa molto di più non volevo usare delle parole edulcorate volevo far vedere i rapporti di forza non soltanto rapporti di appartenenza ma anche rapporti di classe mi interessava molto e la linea del colore però è una cosa che la protagonista prende rovescia lei per lei diventa la linea pittorica quella che può unire i punti perché in questo libro troverete tutte le sfumature del nero e tutte le sfumature del bianco e scherzando e ridendo dico sempre che ho fatto un po' di appropriazione culturale adesso si parla sempre di questa cosa dell'appropriazione culturale io ho moltissimi personaggi che non hanno il mio colore di pelle la fanu ce l'ha e l'ela e binti ce l'hanno ma bezebea lizzi no e quindi in qualche modo ho voluto raccontare tutte queste sfumature per esempio lizzi è una donna che è vedova e però non ha tanti soldi quindi il marito l'ha lasciata senza denaro quindi deve arrangiarsi mentre bezebea invece è una ricca vedova ci sono differenze sostanziali tra essere ricchi e indigenti in qualche modo e quindi per me i rapporti di forza erano molto importanti e la linea del colore è un titolo che fa vedere subito il rapporto di forza però appunto con questo rovesciamento e invece concludo con San Benedetto San Benedetto San Benedetto adesso sta diventando paradossalmente ha viaggiato tutto il mondo da Sautome a Principe a Brasile in Brasile ogni volta che vado devo spiegare che è un santo siciliano non ci credono perché ognuno di questi paesi pensa che è il loro santo però adesso sta tornando in Sicilia è tornato in Sicilia c'è un grosso murale a Palermo ed è il santo della migrazione è diventato il santo della migrazione in qualche modo il santo che appunto ci sta dicendo che perché i santi cambiano col tempo cambiano anche di significato scoperto che ci sta dicendo che nel Mediterraneo e nel confine tra Stati Uniti e Messico quello che Gloria Anzaldù definiva una erida abierta una ferita aperta c'è una ferita appunto che dobbiamo sotturare e che io personalmente ho aggiunto questa mia goccina che è il romanzo in questa conversazione globale sull'emigrazione perché secondo me stiamo completamente sbagliando strada e non possiamo continuare a far morire la gente in questo modo e invece non vedo un discorso pubblico che pensa a cambiarlo quindi la linea del colore è purtroppo anche la linea tra i vivi e i morti grazie grazie a tutti grazie a tutti